Una persona può benissimo cosparsi il capo di cena nel senso di umiliarsi profondamente, ma questa cedere però deve essere ricavata bruciando le radici di Artemisia, cioè le radici dell'Artemisia absintium, cioè la pianta da cui si è ricavato l'assenzio amarissimo. Con questa cedere e non con un'altra, il generale trionfante a Roma, dietro aveva uno schiavo che mentre gli altri decretavano il trionfo, gli spargeva il capo di cena e diceva ricordati che comunque sei soltanto un uomo.